ciao a tutti ragazzi e ragazze è questionato in questo nuovo video ormai è l'ennesimo ma l'ultimo perché domani è pasqua quindi non sarà l'ultimo ragazzi è il penultimo video di spacchettamento uova di pasqua perché ne sarà un altro dopo di che basta veramente perché siamo contenti per l'amore di dio che mese prossimo si guadagna qualcosa da youtube quindi ringraziamo tutti voi che avete visto questi video di uova perché anche l'anno scorso è stato un po così mese più prolifero per il nostro canale quindi giustamente si fa quel che si può insomma e niente andiamo a prendere questo uovo di solita bilancia disney princess alla caccia di aria l'ho trovato perché ormai scarseggiano l'ho pesato il negozio peso 387 ovviamente dicci sotto nei commenti se qualcuno di voi ha trovato aperto questo uovo e appunto l'ha provata a pesare se ha trovato la stessa sorpresa con lo stesso peso che abbiamo trovato noi vai alessandra più uovo tanto c'è il bussolotto dentro quindi ancora la stessa sorpresa non viene estratta e abbiamo trovato aria che è quella che desiderava quindi più 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 fortuna di così non si posi a caso proprio lei quindi vuol dire si prospetta giornata fortunata si spera peraltro ragazzi stasera andremo al cinema dopo non so quanto tempo andremo a vedere animali fantastici segreti di silente perché appunto anche il titolo in tripa con la saga di harry potter vediamo un pochettino se è migliore diciamo degli altri due perché non sono stati eccezionali vediamo appunto però dal trailer sembra migliore rispetto agli altri due e poi appunto magari faremo un video appunto di recensione del film per darvi la vostra opinione voi potete dare le vostre se l'avete vista anche voi oddio allora la faccia di è talmente lucida ma guardate tipo è plastica dall'altra parte però almeno le sorprese sono accettabili peraltro c'è anche il granchio giusto si sebastian allora la testa si muove così e tra l'altro questo vabbè si apre poi dentro le bambine potete metterci le conchiglie visto che siamo a tema mare ecco ci mettono dentro i gioiellini e cose del genere bene ragazzi questo video termina qua noi vi salutiamo like questo video commentate mi raccomando dicendovi sia dell'uovo appunto che poi video di segreti di silente arriverà comunque più avanti sul canale e ci diamo al prossimo video ciao